Meno male che c'è la barriera perché mi sembrano un po' agitati stamattina. La lezzata. Siamo finalmente arrivati allo Zion National Park che abbiamo lasciato per ultimo. Siamo allo Zion National Park e come vedete stiamo facendo un percorso alternativo perché c'è stata una frana da questa parete e ha bloccato il percorso originale. Ecco, siamo qui allo Zion National Park e c'è questo scoiattolino che ci gira attorno, ci gira attorno. Va da Mauro, guardate che va da Mauro, vuole entrare dentro i nostri Zion. Guardate questa farfalla. La farfalla. La farfalla. La farfalla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.